You thought of inviting the old girl to come and be with you. Ok, vorrei ringraziarvi tutti perché avete pensato di invitare la vecchia ragazza qui oggi. Mi ricordo di essere stato qua un bel po' di anni fa per un incontro molto importante che si chiamava Free Nelson Mandela, cioè Liberate Nelson Mandela. Quindi Bologna è sempre stata nel mio cuore perché so che voi siete persone che vi preoccupate, vi pensate a cosa succede ad altra gente nel mondo. It's not so easy for me anymore because I'm not 18 anymore, I'm 17. Più 18 anni, anzi ne ho 75. I have been told that this meeting is emphasizing the collaboration and the help between you, the people of Bologna in Italy and Europe to try to collaborate with Africa, our continent. And it is very, very important to me and to all of us as Africans. Ok, mi hanno detto che questo incontro e tutta questa festa, alla base di tutto quanto c'è l'idea che l'Europa, Bologna e la collaborazione fra Europa e l'Africa va migliorato. E questo per me è molto importante ed è importante per tutti noi africani. I have been told that there are many africani in this town and around, some who came legally, some who are here illegally. I want to say this, that these people are fleeing and trying to avoid suffering on our continent and they come to you, to Europe, looking for a better life and they run into difficulties. Ok, io so, o almeno ho sentito che qui ci sono diversi africani che sono qua, legalmente e anche illegalmente. E volevo ricordarvi che qui, cioè queste persone sono qui perché stanno fuggendo di una realtà, cioè di una sofferenza in Africa. E volete che vi ricordiate questo? Noi tutti sappiamo che l'Africa ancora ha molti problemi, abbiamo warze tra noi, e non è un accidente. Noi siamo tutti colonizzati e quando le coloni stavano a morire dopo Ghana, le coloni stavano tornando con un metodo differente e stavano dividerando le persone dell'Africa. Ok, noi ci sono un sacco di guerre in Africa e non è particolarmente strano, visto che ci sono state guerre dall'epoca della colonizzazione. Cioè dopo la colonizzazione di Ghana, Ghana è andato avanti e ci sono sempre state guerre causate inizialmente da colonialisti. Non è facile per voi e tutti i paesi che i nostri paesi riusciano a riusciano a riusciano. Noi sappiamo che ci sono problemi per voi, perché tutti i paesi hanno i paesi problemi. In Sudafrica oggi, noi sentiamo e crediamo che siamo liberi, ma abbiamo ancora molti problemi. e molti altri persone di signorizzano a riusciano in Sudafrica, legati e illegali. Ma abbiamo dovuto cercare, tutti noi, per trovare una soluzione per le persone così. perché se non ci si non, le cose si fanno male perché quando le persone sono hungry e non hanno il giusto per vivere saranno tentati a fare cose illegali quindi è per tutti noi, i paesi che hanno persone come questo cercare di trovare una soluzione trovare una comprensione e cercare di aiutare aiutare, aiutare, aiutare perché anche se ti dà qualcuno oggi, sarà finito tomorrow abbiamo una soluzione per le persone come questo non è nemmeno di mandare loro a loro paese che sarà aiutare sono qui per cercare una vita migliora è per noi, le persone che trovano nei nostri paesi trovare una soluzione non sono un presidente, non un leader ma credo che tutti noi, i nostri leader e noi, le persone dei paesi che hanno questo problema lavoriamo insieme e trovare una soluzione per aiutare quelli che riusciano per noi cercano una vita migliora molti paesi in Europa che dicono che dobbiamo stopper l'immigrazione e che dobbiamo senderli tornare a loro paesi questo non è una soluzione ok, ci sono paesi in Europa che dicono dobbiamo fermare questa immigrazione cioè dobbiamo mandare questa gente a casa questo non è una soluzione io credo che cercare di avere un compagno e di sapere queste persone sarà una delle soluzioni noi siamo tutti freddi di un altro perché non prendiamo il tempo di sapere di un altro di un altro di un altro di un altro e noi siamo tutti freddi di quello che non sappiamo una soluzione serve semplicemente di cercare di capire queste persone di comprenderli perché sembra che abbiamo tutti paura uno dell'altro cioè che invece se cercassimo di capire le loro culture cioè non serve meno paura li conosceremo meglio io credo che quando queste persone sono qui provate e insegnano la cultura di vostra cultura e provate e capire la loro cultura e provate e capire dove vengono e le loro direi dove vengono e perché vengono qui per la vita e quindi non saranno freddi di loro e non saranno freddi di loro e quando noi stiamo qui credo che è la prima una piccola di una soluzione e potete dargli le loro mani ogni month o ogni 6 months non non help until they credo che sono accettate e sono being helped to help themselves se voi cercate di insegnare a queste persone le vostre culture se voi cercate di capire la loro cultura questa è già una grande cosa President Mandela was in office he announced in South Africa that we know there are many people who are here in South Africa some whose countries helped to make South Africa in that they are the people who came to work in the mines in South Africa so I give a small solution for those people who are here without papers and so on those who have been here for five years and from now on someone being here for five years can apply and should apply for papers to be a South African and many many people did and they are today South Africans by having legal papers in South Africa thus they can look for work work is scarce even for South Africans but they at least have a chance to get a job and to be able to sustain themselves Nessun Mandela ha usato questo diceva questo quando era presidente che ci sono tante persone qua che hanno aiutato a costruire questo paese per esempio le persone che lavoravano nelle miniere allora lui decide decide se di us build together let us build one another which means I help you you help me and maybe together we can grow to make a better world for all of us and by saying I do have a home in South Africa I have a home for young girls it's called Makeba Center for girls it is in Midland I started that home I started to talk about that home in 2001 today the home is there the land is very big but the house I bought with the land together can only house 18 girls and this land and house and money to talk about having this home I got from Italy I met a young some young people from a union in Reggio Emilia and they said what are you doing what is the thing you'd like to do in your country we'd like to help I said I'd like to have a home for girls and they gave me $10,000 and and young children from the schools came to ask me questions about the youth in South Africa I answered as best as I can and the children collected money it made $1,000 so I went home with $11,000 which permitted me to work harder and harder today I have my Kava Center for girls thanks to people in Italy the children are brought to us they are found in the streets some of them by social workers and then they go through the courts and the courts assign them to the different homes like Makeba Center and then they come to us legally that way we are now trying to find money to build more shelter to be able to take more girls their ages range from 11 to 18 last but not least we hope you will be here tonight to help abroad us because we are looking forward to be on that stage over there tonight and to try and give you our best through what we know best my wonderful mama I need her more than ever now my wonderful mama I long to kiss her wrinkled brow I long to hold her hand yes in days gone by and ask her to forgive me for things I did to make her cry happy few were her jewels she never cared for fashion styles her jewels and treasure she found them in her baby smile oh I know that I owe what I am today to that dear little lady so old and gray to that wonderful wonderful mama 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 of mine thank you thank you thank you thank you